benvenuto Robby Facchinetti grazie di aver accettato il nostro invito e ti presento brevemente anche se non avresti bisogno di presentazioni però magari per i nostri ascoltatori più giovani ecco Robby Facchinetti è un'icona della musica italiana fa musica da praticamente da 60 anni più o meno e niente con il suo gruppo ipu diciamo ha fatto la storia della musica italiana resistendo e stando sempre presente e nonostante le mode cambiassero hai suonato mentre c'erano i Beatles avete suonato mentre dilagava poi il rock poi si è passato alla disco music si è passato al reggae tutte le tendenze musicali ma i punk c'erano sempre Robby Facchinetti c'erano sempre in alto nelle classifiche hanno fatto innamorare i giovani di allora che poi sono diventati adulti adesso magari sono nonni e continuano a fare sognare i nipoti ecco le nuove generazioni per cui ecco adesso siamo ben felici di averti qui e inverterà l'intervista e la nostra chiacchierata ecco intanto su un ultimo tuo singolo che ha per titolo cosa lascio di me io il singolo l'ho ascoltato mi è piaciuto moltissimo e per quanto mi riguarda l'ho inteso come come un dialogo tra te e la vita come una sorta di ringraziamento per quello che tu hai avuto dalla vita e ho notato il compiacimento la soddisfazione in un certo senso di esserti uso una parola riprodotto ecco nei figli nei nipoti nei loro occhi e anche negli occhi delle persone che ti hanno voluto bene ma questa è una mia impressione volevo sentire la tua ma innanzitutto ciao a tutti allora no tu hai hai detto bene perché questo questo brano dal titolo cosa lascio di me è questo protagonista che si preoccupa di quello che può aver lasciato nel cuore degli altri delle persone che ha conosciuto delle persone importanti della della sua vita infatti questo video è rappresentato con cento fotografie della mia vita delle persone della mia vita dei miei genitori in poi delle persone che io ho incontrato poi ci sono anche i miei figli i miei nipoti c'è mia moglie gli amici ci sono i pu che hanno avuto sicuramente una parte importantissima nella nella mia vita se io sono così lo devo anche a loro cioè ognuno di noi si porta dentro un qualcosa no delle persone che ha avuto la fortuna e non insomma di di incontrare nella propria vita perché noi rappresentiamo il nostro vissuto e il nostro vissuto è rappresentato ripeto soprattutto le persone che abbiamo conosciuto che abbiamo attraverso loro eh capito certe cose che hanno lasciato qualcosa di importante che in qualche modo eh ci ha fatto crescere e maturare e questo è un processo ehm come hai detto tu prima che era anche un atto di di grande generosità di grande amore per la vita e per le persone della nostra vita noi di solito siamo portati a criticare eh le persone della nostra vita cioè eh sai quell'amico lì ehm è per me importante perché sto bene con lui oppure c'è simpatico antipatico ehm c'è tutte le persone tutta una serie di umanità che in qualche modo comunque hanno eh fatto sì eh di farci diventare quello che siamo oggi lo facciamo di solito eh contro terzi no questo processo a questa analisi è molto difficile invece fare il contrario che che si dica beh insomma io dopo tutto che cosa eh di fatti i protagonisti di questo brano dice alla donna della sua vita al suo amore ma tu eh io che cos'hai dentro di te io in qualche modo abito dentro di te sono importanti al punto di lasciarti qualcosa di me eh veramente molto molto importante poi viene allargato chiaramente a tutti e è un po' questo questa analisi che devo dire io credo che nulla che questa analisi si faccia eh poco se io ti chiedessi quante volte tu hai chiesto al tuo amico ehm alla compagna della tua vita tua moglie o o alle persone a te care hai mai chiesto loro che cosa lasci di te nel loro cuore eh nella loro nella loro testa no quali sono è difficile è dato è dato anche dal fatto che questa canzone si nota chiaramente che è cantata col cuore cioè qualcosa che viene da da molto in profondità che poi accompagnata a un video che è bellissimo che come hai detto tu è come sfogliare un album di fotografie sembra che tu abbia dettato abbia le chiavi comunque del successo il cuore e la semplicità cioè sono due cose che 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 fanno emozionare che vedo che tu stesso ti emozioni per questi due concetti diversi molto semplici ma che poi nella pratica eh è bello che vengono evidenziati cuore e semplicità beh sì eh questo è poi sai uno di quei brani eh che è sull'onda dell'emozione e e e doveva essere così no anche per per il come dicevo appunto prima per il tema che viene trattato in questo in questo brano perché va veramente in profondità è un atto di 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 come giustamente detto tu di di umiltà anche e anche di di generosità perché uno si preoccupa no di 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 quanto eh lui eh possa eh lasciare eh nel cuore degli altri eh quanto possa lasciare di sé e diciamo che è chiaro che ognuno di noi eh pensa di 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 lasciare eh la parte mi augur no ci auguriamo la parte migliore di noi ehm perché io credo credo che se 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 ognuno di noi cercasse di lasciare di lasciare la parte migliore di sé all'altro o viceversa io sono convinto che vivremo in un mondo sicuramente migliore di quello che che in realtà è eh è un po' questo e allora anche questo quello che che è successo che continua comunque ad accadere io credo che in qualche modo eh ci ha resi un po' migliori no perché abbiamo capito no perché abbiamo capito no perché abbiamo capito no perché abbiamo capito quanto 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 è abile no la nostra vita che può essere messa in discussione e poi abbiamo poi abbiamo guardato in faccia eh soprattutto nella mia città questo orribile eh virus ecco tu hai toccato i valori e ci siamo credo no eh resi conto di di quelli che sono i reali valori della nostra vita no che poi non sono poi tantissimi e io credo che questo che questa brutta brutta è la nostra esperienza perché è da lì no che siamo costretti comunque a riflettere eh siamo rimasti rimasti in lockdown eh perlomeno qui al nord per per mesi e in completo silenzio eh costretti a riflettere no questi spazi molto molto eh dilatati sono stati costretti a riflettere sulla nostra vita e sulle cose eh importanti e non della nostra vita e allora questa pulizia io credo che chi più e chi meno eh ognuno l'abbia fatto no? Eh e si è reso conto ahimè di quante cose inutili anche che noi facciamo oppure peggio ancora che si davano le priorità delle cose assolutamente assolutamente che non meritavano questo e e e e e e e poi il contrario no? Alle cose importanti come siamo sempre portati a a a a a per scontato e invece nella vita non c'è nulla di scontato assolutamente e io credo che in questo periodo l'abbiamo capito molto bene. Esattamente una curiosità volevo volevo chiederti l'album si intitola inseguendo la mia musica ma ehm volevo capire meglio il senso del verbo inseguire cioè tu fai musica da tantissimo tempo e hai fatto e avuto modo di fare la tua musica per cui la insegui nel senso di di tendere di giungere all'optimum oppure la insegui nel senso che non riesci a starle dietro tanto è dirontente la tua la tua musica. La inseguo perché non posso fare a meno non posso dire senza musica e molte volte è lei inseguire me mi richiama all'ordine però la maggior parte delle volte sono io che inseguo lei perché perché io ho vissuto la vita e ho dedicato la mia vita alla musica fin da quando avevo sei anni e per cui per cui per me la musica è sempre stata la vita per me la musica è sempre stata la migliore medicina la potenza eh della musica mi ha sempre tramolto coinvolto eh ritengo che sia veramente la cosa eh più per me perlomeno la cosa più bella che esiste eh la musica non mi ha mai tradito anzi la musica mi ha regalato eh la possibilità di 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 farla la possibilità di di inseguirla la possibilità anche di essere inseguito come dicevo prima addirittura dalla musica e io è la si può dire posso usare eh la mia prolunga non so ehm è qualcosa che fa parte di me sia dentro che fuori eh ora mi sta mancando molto il palcoscenico mi sta mancando molto perché eh io sono stato eh io sono stato eh con i pu più sul palco che eh nella mia famiglia con i miei figli con mia moglie questo per fatti capire abbiamo con i pu fatto oltre tre mille cinquecento concerti che eh significa oltre diecimila di diecimila ore di musica sul palco senza contare le incisioni senza contare le prove senza contare le ore e le giornate e i mesi di preproduzioni in preparazione eh dei 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 nuovi brani da incidere insomma veramente eh una vita eh piena e ricca di di musica. Tornando al video Robby da prima si vede un edificio abbandonato con le vetrate rotte e poi man mano prende. 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 Prende sembianza di quello che è. Si vedono gli alberi. La tua vastità. Diciamo. Perché questa scelta? Che cosa rappresenta esattamente? Cioè sottintende una una metafora oppure un luogo che tu hai vissuto e che per te rappresenta diciamo qualcosa di particolare per averlo inserito nel video? ma guarda ehm come si diceva prima questo è comunque un un viaggio nel attraverso dentro di me introspettivo no? Che eh attraversa tutta la mia vita per cui quei luoghi eh diciamo che eh mi hanno messo nelle condizioni di guardarmi dentro eh di guardarmi dentro eh chiaramente in completa solitudine no? E quei luoghi ecco rispecchiavano eh meglio questa ricerca di solitudine per fare eh questo mio viaggio indisturbato e il vero significato eh eh è un po' questo niente di più. c'è un passo della della canzone che è molto significativo solo adesso l'ho capito a chi somigli e mi sento come un figlio un braccio a testo un passaggio che mi viene da chiedere in definitiva a chi somigli forse hai già dato prima la risposta a chi somigli? ma sai eh eh assomiglio a tutte le persone che in qualche modo ho conosciuto a tutte le persone che mi hanno lasciato comunque un qualcosa di importante dentro di me ed è chiaro che io somiglio un po' a tutte quelle persone che vengono rappresentate attraverso queste eh cento fotografie. Vito è chiaro che eh mi ci ritrovo in mia madre, mio padre, nei miei figli no? Soprattutto ma anche eh anche nei 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 confronti dei pu che abbiamo convissuto così a lungo in modo così forte, così bello. la nostra è stata soprattutto un'avventura umana più che un'avventura musicale perché se non ci fosse stata un'avventura umana io non sarei qui a parlare dei pu con te. eh quello era il presupposto per poter fare delle cose importanti come abbiamo fatto, tante cose importanti attraverso eh la musica e riuscire comunque miracolosamente anche a portare la nostra straordinaria avventura eh portarla avanti per cinquant'anni. ecco tutto questo grazie veramente al rapporto umano certo perché i pu non erano soltanto dei bravi musicisti ma erano degli uomini cioè i pu non sono la somma uno più uno più uno più uno ma il risultato finale è esponenzialmente maggiore se li metti assieme perché ognuno ha il suo campo era un numero uno ma assieme eh con la carica di umano e con la carica di umanità che ognuno è esponenziale e con l'amicizia che è è come quando metti faccio un esempio così qua come quando metti due farmaci insieme il risultato non è uno più uno ma è molto di più. Beh certo guarda io tu hai toccato un punto veramente importante è la forza del gruppo singolarmente noi eravamo eh in quattro e e rappresentavamo il venticinque per cento insieme eravamo il mille per cento un milione che è proprio dovuta alla grande forza del eh del gruppo gruppo e il famoso spirito di gruppo e non è una semplice frase dentro c'è molto 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 di più e la forza del gruppo è appunto in questo certo le cose belle vengono eh suddivise in quattro no ma anche quelle meno belle no vengono vengono alleggeriti alleggerite dal fatto che comunque siamo ma però insomma eh quando è così quando come è capitato a noi no eh di eh di trovarci poi alla fine perché eh io sono entrato nel 66 sono state tutta una serie di cambi di sostituzioni eh è come se i puo avessero dato eh o ancora meglio che la vita abbia in qualche modo fatto coincidere certe cose a a noi ehm con degli aggiustamenti dal 66 sono entrato io eh fino a 73 che fu l'ultimo cambio con retica anziana al posto di Riccardo Fogli da quel momento eh da 73 al 2016 e qui poi sono riusciti veramente a mettere insieme e a fare tutto quello che che hanno fatto 80 milioni di dischi venduti eh la vittoria di eh del festival di Sanremo con uomini di 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 inserire le versioni strumentali che comunque è una cosa diciamo comune a tanti, compresa anche il cosa lascio di me. Forse perché la bellezza delle parole in questi testi potevano mettere, potevano sfuscare la musica per cui tu hai voluto dare il giusto risalto anche alla musica, come mai questa scelta? Dunque la scelta delle basi è perché io ho continuamente delle richieste, le basi dei nostri brani, perché ho anche, a parte che ci sono molte cover band, ci sono molti musicisti, ci sono anche molti fans che si divertono a cantare avendo a disposizione la base, per cui è stato un regalo, un in più che ho voluto mettere nel terzo cd, come dicevi tu, questi cinque inediti e anche le cinque di conseguenza anche le cinque basi. I cinque inediti che sono nati dopo Rinascerai, che mi è venuta l'idea appunto di fare questo doppio live che fortunatamente avevo inciso durante il mio tour inseguendo la mia musica, però pur essendo convinto e mi piaceva il fatto di poter fermare questo mio tour con questi brani che io ho composto con i pude, brani veramente importanti, però avevo bisogno bisogno di anche qualcosa di nuovo, per cui è nato, era già nato Rinascerai e sono nati altri quattro inediti, tre del quali i testi sono sempre di Stefano e poi, cosa lascio di me, è un testo fatto da Francesca Pugli, questa utilice brevissima che ha scritto e scrive anche per per Mina. E devo dire che questo progetto mi rappresenta veramente molto, perché c'è il passato, musicamente parlando, e anche il presente. A proposito di Maria Francesca Pugli, che ha scritto insieme a te, che è intervenuta nella stesura del testo, un lavoro dunque fatto a quattro mani, ma una curiosità, come avviene la stesura di un testo a quattro mani, cioè il testo viene scritto prima da uno, poi viene riveduto dall'altro, si collabora dall'inizio alla fine, come avviene la collaborazione quando sono due persone a scrivere un testo? Di solito, come in questo caso, nasce prima la musica, no? E la musica stessa ogni tanto suggerisce anche l'argomento, o comunque il mondo. Io avevo composto questa musica e ho pensato di far sentire questo brano a Francesca Pugli, perché avevo ritenuto, grazie alla sua sensibilità, che fosse l'autrice più indicata. Devo dire che a lei gli è piaciuto il mondo, l'emozione comunque che arrivava ascoltando il brano, ci siamo confrontati un po' di volte, sono avvenuti due o tre esperimenti, però comunque avevano già più o meno quest'anima, fino a quando si è trovata la chiave, Francesca ha trovata una chiave giusta e ha affrontato appunto questo testo, con questa idea, nel modo più bello e più approfondito. Ed è, come si diceva appunto prima, un testo d'amore, un testo di grande umiltà, un testo di grande generosità. E come poi l'ha sviluppato tutto questo, l'ha reso anche, direi, originale, perché perlomeno quello che può essere la mia conoscenza, un testo così non è mai stato fatto, non è mai stato sviluppato, insomma, questa idea in questo modo. E anche per questo che questo brano, grazie al testo, ha quel tocco e quell'anima, che io chiamo sempre, di originalità e di particolarità. Infatti i nostri ascoltatori, che sapevano che ci sarebbe stata questa intervista, hanno fatto pervenire delle domande, alcune sono molto singolari, si chiedono, ma il pezzo ha tutta l'aria di essere come una somma, ecco, ha una tale bellezza, una tale profondità. E c'è una parola buona per tutti, un ringraziamento, che sa un tipo di completamento di un percorso. E alcuni ci hanno chiesto, ma farà altri pezzi dopo questo? O forse ha voluto proprio concludere la sua cattiviera musicale con questa bellissima canzone, che è come una somma, ecco, hanno usato proprio questo vocabolo, come un completamento. Ci può essere mai una canzone più bella di questa? Ma, guarda, io vivo la vita come ogni giorno, ogni attimo, un punto di arrivo e di partenza, no? E' chiaro che sì, potrebbe anche essere un consuntivo che racchiuda un po' e che ci sia una sorta di punto. Ma non è così, perché sì, un punto fino a quel giorno, a quel momento, a quell'attimo può essere inteso così. Però per un artista che mi auguro, insomma, di continuare a avere la fantasia che mi permette di creare, che mi permette di amare ancora questo meraviglioso lavoro, fino a quando sarà concesso poi tutto questo, io farò, continuano a fare la cosa che amo di più, che è quella di fare la musica, di fare musica. Ma vorrei aggiungere questo, che con Stefano, è già stato detto però magari, sicuramente, insomma qualcuno magari non ha ancora. Sì, abbiamo fatto un'opera, il famoso Parsifal, che è stato fatto nel 73, con il testo di Negrini e la musica mia. Io ho sempre avuto voglia di completare quest'opera, che potesse diventare un'opera vera e vera e proprio di due ore. Ebbene, quando i Poo hanno chiuso la loro straordinaria storia, il 30 dicembre del 2016, chiesi a Stefano, se gli piaceva l'idea di mettersi a lavorare per completare quest'opera, ebbene sì, Stefano ha abbracciato completamente questo progetto e l'anno scorso, verso i primi di luglio, noi abbiamo finito proprio l'opera. Ora Parsifal dura due ore e quella che è la mia missione, perché so quanto Stefano ha amato lavorare su quest'opera, perché è qualcosa di straordinario parlare di questo cavaliere senza macchia per tutto quello che si porta dietro poi, il re Artù, la tavola rotonda, le crociate, il santo graal, la cui è un'opera potente, è un'opera importante e purtroppo Stefano se n'è andato, abbiamo sempre considerato... e lo è veramente in tutti i sensi, quello che sto facendo ormai da mesi, ho già dei compagni di viaggio straordinari che si sono innamorati letteralmente di quest'opera e quello che è il mio compito, la mia missione più importante, ormai da mesi lo sarà, fino a quando riesco a portare sul palco questa opera e sarà per me il miglior modo per olonare la memoria di Stefano Dorazzi. Concludiamo questa chiacchierata, ti chiedo solo brevemente, non posso non riallacciarmi al recente Festival di Sanremo che ti ha visto protagonista tre volte, una volta con i Prù, hai vinto, una volta con tuo figlio, una volta con Riccardo Fogli, questo Sanremo. Cosa salvi intanto se tu sei d'accordo se si sia fatto oppure no, se c'è qualcosa che ti ha impressionato più di altro, più di altro e cosa ti ha colpito particolarmente? Per quanto riguarda il Sanremo e gli artistiche, ma diciamo che quest'anno devo dire che mi è piaciuto soprattutto perché la musica italiana l'ho vista rispetto alle ultime edizioni, l'ho vista più rappresentata, parlo della musica italiana di oggi, di quello che può essere la musica italiana, per cui devo dire che sotto questo aspetto mi è piaciuto. Un'artista giovanissima, fra l'altro, che credo che abbia 17 anni, che è Madame, questa ragazzina la, intendo che sia molto brava, mi ha colpito moltissimo per l'originalità, perché credo che abbia qualcosa di diverso rispetto a un solito artista, o perlomeno intravedo dei numeri e delle opportunità che può avere questa giovanissima artista, che se è gestita in modo intelligente, può avere sicuramente un buon futuro. Fra l'altro è prodotto da Caterina Caselli, questo devo dire che la racconto molto lunga. Poi, sai, i Maleskin potevano arrivare comunque nei tre, forse io avrei fatto vincere Herman Meta e loro magari secondo o terzi. Mi è piaciuto molto anche il brano di Michelin e di Fedez, perché è stata una bella proposta. ho scoperto e abbiamo scoperto Fedez che sa cantare, no? E anche molto bene. Si sono posti questi due nel modo più bello, più carino, con tanta umiltà. La Michelin è cresciuta artisticamente in un modo fantastico, devo dire. E questo, il palco di Sanremo ha anche questa funzione e mi è piaciuto anche per questo. Poi sai, il brano di Anna Lisa, va bene, mi aspettavo un brano così, però nelle sue corde, bellissimo. La stessa cosa anche il brano di Noemi, comunque, no? Nelle sue corde, a Risa, la stessa cosa. Fasma, ad esempio, che l'anno scorso abbiamo presentato nei giovani, che è arrivato credo secondo, è un brano bellissimo, forse avrebbe meritato di vincere. E quest'anno si è ripresentato nei big con un brano, secondo me, molto bello. Poi, anche Orietta Berti, 30 anni fa, avrebbe vinto Sanremo, credo, con quel brano. Per cui mi è piaciuto, no? E ha fatto un po' da ponte fra il passato e il presente. Insomma, tutto sommato, ecco, tutto questo, però c'è stata una nota molto, molto stonata, perché ci sarei aspettati, saremmo aspettati tutti noi, due parole in ricordo di Stefano Donazio. Questo non è avvenuto e siamo rimasti veramente molto, molto, molto male, perché Stefano, per quello che, per il musicista che era, per la persona che era, per quello che ha rappresentato anche per lui, per noi, per tutti, quel palcoscenico, due parole di saluto, era assolutamente dovuto. Non sono arrivate, sono arrivate invece le scuse, ma è per carità che abbiamo assolutamente apprezzato, però questa nota stonata rimarrà. Rimane. Grazie Robby con questo sacro santo. Grazie a te, grazie a voi, grazie agli amici siciliani. È stata una chiacchierata piacevole, ti lasciamo ai tuoi impegni, grazie mille, siamo davvero onorati. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.